Riccardo Bernardi, ruolo consigliere comunale, visti i risultati delle elezioni, 388 voti, partiamo proprio da qui, te lo aspettavi? No, sicuramente abbiamo fatto un bel lavoro, una bella campagna elettorale sia come lista sia con i ragazzi che mi hanno sostenuto. Il risultato sicuramente è un ottimo risultato, quasi inaspettato, però sapevamo di aver fatto un bel lavoro cercando di portare soprattutto la voce dei ragazzi all'interno del Consiglio Comunale. Pensi che appunto il bacino principale sia stato proprio quello dei giovani che cercavano un rappresentante, ricordiamo l'età, 22 anni, giusto? Esattamente, sì. Penso che i giovani abbiano avuto un grande spazio in queste elezioni. Io sono già stato coordinatore dei forum giovani, quindi già in passato ho lavorato per portare appunto la voce dei giovani all'interno del nostro comune. Penso anche che un ottimo lavoro sul territorio del mio quartiere, che sarebbe Montegranaro, ha portato un vantaggio in più. Forse un record di questa tornata elettorale tra le prime candidature under 30 a livello di voti, sicuramente un record quello dato dall'età. Il più giovane del Consiglio Comunale, forse nella totalità, da vedere un attimo come gestirà la lista il centro-destra, ma per quanto riguarda il Consiglio di maggioranza sei il più giovane di tutti. Come si vive anche questa parte, questa rappresentanza? Non peserà su di te il peso dei giovani? Beh sì, è naturalmente un onore poter rappresentare i giovani all'interno della maggioranza di centro-sinistra. Secondo me è un po' il segno che sta arrivando del cambiamento, del cambiamento fatto coinvolgendo i ragazzi in tutti i processi decisionali. Questo è un altro passo in più, però il lavoro non finisce qui, anzi inizia. Parlando appunto del lavoro, che lavoro c'è da fare su Pesaro per i giovani? Su Pesaro per i giovani bisogna portare avanti una serie di progetti che secondo me sono fondamentali. Valorizzazione del forum giovani e del progetto ossigeno sicuramente prima di tutti, cioè dare il diritto all'ascolto ai giovani tramite il forum giovani e diritto a uno spazio ai giovani tramite il progetto ossigeno e poi riuscire a mantenere un po' quelle che sono tutte quelle tematiche anche di aspetto di intrattenimento ludico che vediamo oggi all'interno della nostra città, a partire dal mantenimento di Viale Trieste come luogo appunto anche di intrattenimento giovanile. Molte volte la politica magari fa fatica a rappresentare i giovani, però i giovani hanno i propri temi. Noi l'abbiamo dimostrato già in passato con Fridays for Future, di cui sono stato coordinatore, di cui ho portato avanti le istanze anche durante questa campagna elettorale e su tematiche molto vicine al sentimento giovanile, ad esempio una grande battaglia sarà fatta e cercherò di portare avanti sul tema della salute mentale portando temi proposte come lo psicologo di quartiere che permetterà a giovani, ragazze e ragazzi di entrare diciamo in una fase di terapia tramite appunto il supporto del quartiere per poi essere reindirizzati a dei servizi e a chi poi dovrà seguirli nella parte più sanitaria.